Ciao a tutti amici di CDK, qui la vostra Askel che vi parla e vi dà il benvenuto nel video del 30 agosto dedicato ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che si richiede a proporre oggi per noi. Se invece volete conoscermi meglio potete seguirmi sul mio canale principale di Twitch per i miei streaming oppure sul mio social Instagram per i miei aggiornamenti, i link sono tutti quanti iscritti in descrizione. E nel mezzo noi possiamo iniziare con la presentazione dei giochi di oggi. Il primissimo gioco gratis che presentiamo sull'Epic Store che potete riscattare e rimarrà poi per sempre nella vostra libreria è Saints Row The Third Remastered che sicuramente conoscerete ed è il gioco rimasterizzato completamente e sarà completamente gratis a vostra disposizione e rimarrà per sempre nella vostra libreria. Quindi mi raccomando riscattatelo e giocatelo. Invece per chi ha l'abbonamento all'Xbox sta andando Mist che sembra essere un gioco molto particolare in prima persona sembra molto di esplorazione ma soprattutto sembra un bellissimo puzzle game e io sono molto curiosa di provarlo e di giocarlo. Quindi anche voi se avete l'abbonamento approfittatene, provatelo e giocatelo. Invece per chi ha l'abbonamento al PlayStation Plus sta andando tanti giochi tra cui Plants vs Zombies Battle for Neighborville che è letteralmente un gioco in terza persona diciamo spara tutto FPS a tema Plants vs Zombie e quindi secondo me sarà molto divertente e simpatico di giocare anche online con i propri amici quindi approfittatene e giocatelo. Invece gioco gratis su Steam Free to Play c'è anche Joy Spring che è un gioco che non conosco ma il fatto che sia molto pixeloso mi interessa tantissimo e anche qui sembra un gioco platform di esplorazione molto particolare ripeto mi interessa molto provarlo e quindi nel caso provatelo anche voi perché è completamente gratis quindi approfittatene. Invece per i giochi in uscita domani finalmente uscirà K.Wii il gioco nuovo per PS5 che è un gioco molto bellino che mi fa molto ricordare Kung King Simulator o comunque giochi comunque di puzzle game che potete giocare con il vostro amico quindi consigliato anche perché su uno su sito già adesso è super scontato. Invece sempre il 31 agosto uscirà anche The Big Con anche qui è un gioco molto particolare e mi fa impazzire lo stile grafico e prima di tutto è un punto e clicca un po' particolare che sicuramente racconterà una bella storia quindi se vi interessa consigliate di prenderlo dal nostro sito perché già adesso è super scontato un pezzo del genere non lo trovate su un'altra parte. Invece il 2 settembre uscirà WRC 10 che è il nuovo gioco di corse e di macchine anche molto realistico anche perché i giochi WRC sono veramente famosi e anche molto apprezzati dalla community quindi consigliato di comprarlo quel giorno e di prenderlo ovviamente dal nostro sito perché già adesso è scontato del 20% quindi non potete perderlo. Invece il 10 settembre uscirà un gioco che ero super curiosa di provare che avevo già visto il trailer un po' di mesi fa ma finalmente è in uscita. Il 10 settembre uscirà Lost in Random che sembra essere un gioco strabello soprattutto RPG anche in chiave un po' fantasy quindi consigliatissimo anche voi di tenerlo d'occhio e di giocarlo perché per prima lo comprerò e magari lo giocheremo in live su Twitch e invece per i giochi super scontati abbiamo solo i 5 euro quindi scontato di praticamente il 50% abbiamo Rise of the Tomb Raider che sicuramente non potete non conoscere ma magari non l'avete mai giocato quindi consigliato di giocare questo Tomb Raider che è veramente strabello quindi consigliato di giocarlo. Invece altro giocone che assolutamente dovete giocare e io ho portato in live su Twitch e ci siamo davvero divertiti tantissimo e Dark Souls Remastered quindi assolutamente approfittatene se non avete mai giocato il primo capitolo di giocare il primo capitolo perché merita tantissimo e soprattutto è scontato del 63% sul nostro sito quindi non perdetelo. E invece altro giocone importantissimo che costa solo 4,40 euro scontato dell'85% abbiamo Prey 2017 dire che è un gioco FPS in prima persona anche leggermente horror o spooky che è perfetto quindi consigliato di giocarlo perché è davvero stra divertente e bello quindi compratelo dal nostro sito perché davvero merita. Invece l'ultimo ma meno importante Rage 2 anche qui un FPS però molto particolare molto dinamico e quindi consigliato perché costa poco meno di 3 euro ed è scontato al 93% quindi consigliatissimo. Noi invece con quest'ultimo gioco concludiamo il video di presentazione di oggi io vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo una prossima presentazione dei giochi oppure vi aspetto sul mio canale Twitch e sui miei social. Alla prossima! Ciao ciao! Ciao!